Laura 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 Lui è giusto Lui è giusto Dai Gaia Dai Gaia Parlinza Regolai Meno 25 Campanare Meno 25 Campanare Poi Polorini Soprano Saloni Fittorinei Poi vediamo Barletti Saloni Prima posizione Barletti Poi vediamo Corsini Bafetto Mesterno Saloni Luisa D'Ambra Nel gatto Soprano Prima posizione Gatti Ves in questo momento Mi sapevano Zomor Prima posizione Vai Gaia Vai Gaia Vai Gaia e vediamole la ricerca dei primi punti sono più gatti, buona vai, saranno nei maletti dai Gaia, dai dai Gaia 757 più 589 dai Gaia dai Gaia dai Gaia dai Gaia dai Gaia 889 quindi abbiamo visto due punti per Gula Pai, punto per Saloni dai Gaia, dai Gaia dai Gaia adesso vediamo Polvinini sì Maletti Gula Pai, Saloni Pagnelli, Gatti Maloussa questa è Vila Emi, Venti che allunga per andarsi a prendere i due punti di numero 18 vai Gaia dai Gaia 148 e 751 quindi due punti proprio a Barletti e un punto alla numero 751 che è Giulia Corsini dai Gaia, dai dai Gaia, brava vai Gaia vai Gaia vai Gaia va in esterno come a Saloni alza sui spalle Pararelli vicino vediamo il punto di numero 16 vai Gaia vai Gaia vai Gaia vai Gaia 1089 928 e Paganelli che si porta al comando in questo momento e siamo qui e abbiamo i punti di meno 14 un punto 2 vai a 6 punti allentano le cermente le 5 di testa vai Gaia aiuta vediamo i punti di minuto 12 con Marletti e Paganelli dietro di lei 12 minuti a Marletti e un minuto Paganelli e lascia un gruppo di otto atlete a guidare la corsa avviamo la vincente di questa finale vediamoli al passaggio dei punti di meno 10 Marletti e Paganelli 289, 8 punti i miei due punti, ora vai in punto Paganelli e l'Arletti che allunga 20 minuti a Marletti ora verso spalle sul piede Paganelli e adesso vediamo il passaggio della lenda in fondo del Paganelli e così ai punti punti 15 minuti a Marletti 289 sembrava ormai decisa la gala sarà tra 3 minuti di testa Arletti Paganelli e poi la gara sarà da 4 minuti di testa del ripartamento e poi il piccolo Pagamelli, ora vai, rispettivamente due punti, un punto. Intanto cominciano a prepararsi i senior maschi. Pagamelli nel 5. ... e c'è la Lugo, i ciapparletti la Lugo, il ciapparletti il lugo, il cuore mai il cuore di lei, a 5 etri la testa è un po' staccata il vento a canelli 191, 239 per i punti di meno due insiste decisamente Marletti che a questo punto sacca sacca lui si prende un buon vantaggio e va anche a prendersi tre punti sicuramente abbiamo sentito la campagna dall'ultimo giro facile i tre punti di Marletti i due punti di Marletti se vede ci dobbiamo sedere e il signore